Rapina a mano armata ai danni di un'anziana di rovato e sequestro di persona ai danni di una escort. Nei guai, con accuse pesanti, sono finiti un trentenne bresciano e un 51enne di Chiari. Le operazioni che hanno portato a loro arresto sono dei carabinieri della compagnia di Chiari e risalgono al 30 dicembre scorso, anche se sono state rese note solo in queste ore. A Chiari, con l'accusa di sequestro di persona, violenza sessuale, lesioni personali e resistenza pubblica ufficiale, è finito un 51enne del paese, che ha minacciato e sequestrato una trentasettenne dell'Est Europa con la quale aveva pattuito una prestazione sessuale a domicilio, essendo l'uomo agli arresti domiciliari. La donna, però, trovandolo ubriaco, aveva deciso di restituirgli i 250 euro della prestazione ed andarsene. È stato a questo punto che è scattata la violenza del cinquantenne, che prima ha minacciato la ragazza con un coltello da cucina e poi l'ha percossa per costringerla a cedere alle sue avance. La donna è stata in balia del suo guzzino per circa tre ore, poi, approfittando di una sua distrazione, è riuscita a chiedere aiuto ad un'amica, che ha fatto intervenire le forze dell'Ottine. Fatta irruzione nell'abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato la donna ferita e sotto shock. Mentre la ragazza veniva accompagnata in ospedale, per l'uomo sono scattate le manette. In casa, i militari hanno trovato il coltello usato per minacciare la escort e della cocaina. Il cinquantunenne è stato quindi trasferito in carcere, dove resterà in attesa del processo dopo la convalida dell'arresto. Resterà in carcere in attesa di giudizio anche il trentenne Bresciano, che il 30 dicembre scorso ha rapinato un'anziana vedova di Rovato minacciandola con una pistola. Il giovane si è presentato con volto travisato suonando il campanello dell'ottantacinquenne e dopo essere entrato in casa con la forza le ha intimato di consegnargli denaro ed oro. Il rapinatore ha però dovuto accontentarsi della fede che la donna portava al dito. È quindi fuggito dopo averla rinchiusa in casa. Riuscita a liberarsi, la vittima ha allertato i vicini e i carabinieri di Chiari che si sono messi sulle tracce del rapinatore rintracciandolo qualche ora dopo. Sulla sua auto sono state trovate la pistola usata per il colpo, una Beretta 85 auto priva del tappo rosso con caricatore inserito e otto colpi a salve, di cui uno in canna e la fede della donna. Il giovane, che da certamente è risultato essere nipote dell'anziana, è finito a Canton Mombello con l'accusa di rapina a mano armata. Qui resterà in attesa di giudizio dopo la convalida del fermo.